leo e il carrello elevatore è una stupenda giornata al parco giochi leo e i suoi amici stanno giocando a pallone vai oh no! Scoop ha mandato il pallone molto lontano ed è finito sui rami di un albero è finito davvero molto in alto Scoop forse tu riesci a prenderlo no non puoi farcela robot rosso ha un'idea scuotendo l'albero forse il pallone cadrà no è caduto solo un frutto sulla testa del robot chi può arrivare lì lassù? leo sembra aver trovato una soluzione che cos'hai nel cassone leo? vediamo vediamo un telaio un pulsante rosso due grandi supporti per le ruote due da un lato e due dall'altro i supporti per i sedili e i sedili per il guidatore e il passeggero ecco il volante e due fari la griglia anteriore il paraurti e questo meccanismo è l'elevatore lo montiamo sul telaio si con questo possiamo arrivare molto in alto ma manca la pedana su cui salire dove può essere? andiamo a cercarla? qui ce ne sono molte quale sarà quella giusta? quella gialla? proviamo no 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 è piccola e si scivola e questa grigia? beh è piatta ed è robusta attento da questa si può cadere una pedana con bordi e sponde rosse sembra sicura la prendiamo il carrello elevatore è pronto il robot blu è già sulla pedana pulsante rosso e finalmente ci possiamo riprendere la palla si torniamo a giocare andiamo andiamo ehi 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 ci siamo dimenticati del robot blu scusa robot adesso ti facciamo scendere si è risentito non voleva essere dimenticato pulsante rosso e l'elevatore si abbassa di nuovo fatto la partita di pallone continua andiamo robot viola robot blu e il rosso attenzione tira in porta bella parata di leo e buon divertimento a presto ciao